Sì, qui abbiamo un problema serissimo che sto denunciando oggi, che purtroppo c'è ancora un'abitazione assegnata ad un latitante, quindi un alloggio popolare assegnato ad un latitante. E questa è una cosa gravissima, nonostante sia stato cristallizzato l'allontanamento dall'abitazione, io da un anno sto lavorando per cercare di far emettere un provvedimento di decadenza, purtroppo debbo constatare che oggi sembrerebbe non essere stato emesso, dal provvedimento di decadenza passano altri sette mesi per eseguire l'allontanamento e io mi chiedo perché non è stato fatto un anno e mezzo fa, da quando si è scoperto questo caso eclatante, secondo ordine di problema. Ci sono ancora due spacciatori, un paio di spacciatori di droga che minano la tranquillità di questo posto, turbano la pace sociale, spacciano droga fino a tardanotte, fanno festini, fino alle tre e mezza, alle quattro notte, i cittadini non ce la fanno più, non riescono a dormire, vedono questi movimenti sospetti, ci sono ancora allacci abusivi alla corrente elettrica, furti di corrente elettrica e poi udite udite su 80 appartamenti, qui abbiamo 20 appartamenti vuoti, murati, non assegnati, nonostante vi siano a Pescara 750 persone che attendono un alloggio popolare, persone per bene, cittadini onesti e qui devono starci 20 appartamenti vuoti, non assegnati ad uno scandalo e poi tutto il degrado sociale, qui gettano ancora la spazzatura dal terzo piano in mezzo alla strada, non c'è un asfalto a norma, potete vedere, ecco io chiedo alle istituzioni di intervenire e fare presto, è già troppo tardi. Chi si rivolge in particolare? Mi rivolgo al proprietario delle case che è la regione Abruzzo e l'Ader e al comune di Pescara perché loro due, regione e comune, hanno competenze specifiche per fare questi provvedimenti.